Ciao, benvenuto e benvenuto a questo nuovo video, un video molto particolare, un po' improvvisato, nel senso che ho voglia di comunicarti qualcosa, soprattutto alla luce di una serie di scambi che ci sono stati in questi ultimi giorni. Come vedi sono anche abbastanza così, in desabillé, sono qui con la barba lunga, come puoi vedere, quasi in odore di eremita, perché appunto oggi voglio parlarti di spiritualità e programmazione neurolinguistica, che per alcuni fare questo accostamento è peggio che prendere a botte la madre, nel senso che fondamentalmente la programmazione neurolinguistica viene vista sempre come business, vendita, manipolazione, persuasione, addirittura ricordo una volta il mio maestro di shiatsu, quando io gli dissi che mi occupavo di programmazione neurolinguistica, questo mi disse, ah voi fate i venditori di pentole porta a porta, ma lo disse serio, e io insomma, poi sai, uno a una certa età comincia a dimenticare le cose, comincia a fare mente locale, però di aver fatto il venditore di pentole non ne aveva ombra nella mente. O addirittura ricordo un'altra volta, in realtà gli aneddoti sono tantissimi, ma ti racconto un po' quelli più carini, feci un colloquio di lavoro, in una specie di colloquio di gruppo, sai quei colloqui terribili dove ti mettono in 15, dove c'è poi l'esaminatore che si inventa tutti questi giochi psicologici, e a un certo punto quando questo qui vide la scritta programmazione neurolinguistica andò fuori di testa, ma veramente, cioè neanche gli avessi bestemmiato la madre, la nonna, il padre, la zia, i fratelli, la moglie e così via, perché disse, ah, proprio quasi urlando, quasi fosse come se qualcuno con un forcone nel culo lo avesse punto, disse, ah voi fa, tu fai piennelle, voi siete quelli che vi mettete su una sedia, su una gamba sola, con una mano al cielo che fate, oh, 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 te lo giuro, non sto assolutamente enfatizzando la cosa, la situazione andò veramente così. Io rimasi, se usiamo un termine un po' desueto, basito, cioè nel senso per non dire sconvolto, dissi, ma che cazzo sta parlando questo qui? E ricordo che poi c'era un ragazzo nel gruppo che in realtà era d'accordo con lui, perché in questi giochi di gruppo c'è sempre uno d'accordo con l'esaminatore che lo porta apposta e che cominciò a dargli manforte, però io dentro di me dissi, ma non mi ricordo mai di aver fatto una cazzata del genere. Quindi le cose erano due, o lui ha avuto la sfiga pazzesca di incontrare degli psicopatici che sotto il nome PNL facevano chissà cosa, oppure lui era un consumatore di funghi allucinogeni, perché veramente le cose sono due, non ne vedo un'altra di spiegazione. Tutto questo per dirti che sul panorama della PNL purtroppo c'è veramente tanta disinformazione. Questo perché c'è stata veramente una mandria di personaggi, ma proprio una mandria di personaggi e devo dire che purtroppo in alcuni casi, non sempre, alcuni di questi hanno comunque visto la PNL come se fosse una scatoletta di tonno da vendere e l'hanno trattata come tale, per cui è ovvio che tante persone hanno avuto un'impressione, un impatto con la disciplina veramente assurdo. Un po' il prezzo che si paga quando qualcosa è successo, nel bene e nel male, poi cani e porci tendenzialmente si buttano sulla cosa, ora per fortuna questa cosa negli ultimi tempi sta diminuendo perché siccome poi erano in tanti a fare PNL e quando si è in tanti poi alla fine il mercato è sempre quello, non è che il mercato aumenta, adesso per fortuna si sta creando un po' di selezione. Tutto questo solo per dirti che in realtà è possibile incontrare dei personaggi un po' strani che fanno PNL in maniera strana, ed è ovvio che chi magari ha un approccio più spirituale alla vita quando incontra questi personaggi rimane veramente scioccato, per cui dice la PNL va da retro Satana. In realtà la PNL è veramente qualcosa di estremamente potente, perché io non sono partito dalla PNL, io sono partito da mie ricerche esoteriche, sono stato sempre appassionato di discipline orientali, di filosofie orientali e sono arrivato alla PNL in seguito, perché anche quando tu fai il famoso ritiro di due o tre giorni a mezzo alla natura, col tuo maestro che ti guida a fare meditazioni, visualizzazioni, lavoro sull'energia, tutto quello che vuoi, comunque stai lavorando su una frequenza più alta, ma stai non prendendo in considerazione invece la parte della programmazione inconscia, che è molto importante. Io vedo che tanta gente che ha un approccio spirituale ignora completamente questo. È anche vero che quando tu fai un weekend di quel tipo hai una frequenza energetica molto elevata, però se non lavori poi sulle resistenze inconscie, sulle credenze limitanti, e torniamo sempre lì. Il problema è che poi dopo un po' sei lì che vibri bene per un po', ma poi dopo un po' chissà perché ritorni, hai bisogno di rifare il weekend. Quindi io ho incontrato la PNL e l'ho studiata, tanto che poi ne sono diventato un master trainer e ho messo su una scuola che certifica futuri coach e futuri trainer, proprio perché la PNL dà la possibilità di lavorare velocemente, praticamente, proprio su tutta la programmazione inconscia. Poi è ovvio che se tu lavori solo sull'inconscio, quindi solo sulla mente inferiore, non fai tanto, devi lavorare anche sulla mente superiore, sul sé superiore, e qui entra in ballo il karma, entra in ballo il fatto di conoscere come funzionano le leggi energetiche, come si muove l'energia universale. Queste cose devono andare a braccetto, non è possibile dire, ah no, io faccio solo PNL e tutto ciò che ha a che fare con l'energia universale, le leggi quantiche e tutto il resto, sono tutte cazzate, non voglio sentire parlare. È come avere una macchina a metà, cioè, praticamente non ce l'hai intera. Oppure uno che dice, no, no, io faccio solo lavoro energetico e spirituale, non mi voglio sporcare le mani con questa roba così terra terra. È l'altra metà dell'auto, ma ti manca sempre l'altra metà. Quindi per questo, secondo me, è importante mettere insieme queste cose. E vorrei anche dare un messaggio, ci sono persone che trattano la PNL in maniera molto etica, in maniera molto sana, io ci provo, ecco, se no posso peccare di presunzione, dici proprio Fanelli, tu dici così perché lo fai. No, io ci provo, perché io comunque metto insieme tante cose, io parlo di comunicazione efficace, parlo di enneagramma, parlo di non verbale, parlo di spiritualità, parlo di karma, perché tutto questo, secondo me, si mette insieme. Non è che perché io faccio un percorso spirituale, allora io non devo conoscere la comunicazione efficace. Mi viene in mente, e se non l'hai mai visti questi film, vale a guardare, anche perché tra un po' comunque ci sarà il nuovo, Guerre Stellari, Star Wars, e gli Jedi, che sono quelli che sarebbero, tra virgolette, gli esperti di energia del lato luminoso però della forza, non solo conoscono le leggi, tra virgolette, energetiche, hanno una filosofia più spirituale, una visione spirituale della vita, ma fanno anche i famosi esercizi di dialettica, cioè se tu vuoi riguardarti qualche film, apprendono anche tecniche di comunicazione efficace, e così via. Tutto sta non tanto nei mezzi che uno apprende, ma nel cuore della persona, puoi diventare un Jedi, puoi diventare un Sith, puoi scegliere, puoi andare verso il lato luminoso o verso il lato oscuro, quindi assolutamente le cose devono andare a braccetto, le cose devono andare a braccetto perché in questo modo veramente una persona può, secondo me, ritenersi completa, poi è ovvio che questo è un percorso che non finisce mai. Io infine vorrei anche ricordare che come me ce ne sono altri, anzi forse molto più addentrati di me su certi aspetti, tipo Mauro Scardovelli, io con Mauro, Mauro è un trainer di PNL di vecchia generazione, vuol dire che è una persona che sono tanti anni che fa PNL, molto bravo e comunque ha un approccio molto spirituale alla vita, fa PNL, quindi non vuol dire che se uno fa PNL deve escludere il resto, le cose vanno integrate, e quindi io consiglio di andare oltre, di non fermarti al primo deficiente che ti mostra la PNL come se fosse veramente tecniche di manipolazione, ma vai oltre, fai una ricerca, vai su internet, cerca di scoprire che cos'è la PNL integrata, la PNL umanistica integrata, vai oltre questo, poi non soltanto in Italia, ma anche all'estero ci sono diversi trainer, mi vengono in mente gli Andreas, gli Andreas hanno fatto delle pubblicazioni incredibili, io forse ne cito una che è la più interessante, è i nuclei profondi del sé, degli Andreas, casa editrice astrolabio, si parla di una tecnica che ti permette di entrare in contratto con i tuoi nuclei profondi e la cosa interessante è che quando entri in contatto con questi nuclei profondi si entri in contatto con stati mistici, è una tecnica che va su delle frequenze completamente diverse, ed è PNL, è PNL, perché la PNL non è che la PNL è una scatola chiusa, la PNL nasce dal modellamento, cioè se c'è qualcosa che funziona io la prendo, la studio, la integro e la rendo accessibile a tutti, quindi la PNL non è un set di tecniche punto, è in continua espansione e evoluzione, è questo che conta. Bene, ho voluto farti questo video un po' per farti capire che PNL e spiritualità possono andare a braccetto, anche se poi spiritualità è un termine così ampio che raccoglie di tutto, raccoglie sia persone molto aperte di mente, persone alla ricerca dell'illuminazione, raccoglie anche estremisti, persone molto rigide, persone che hanno bisogno di dipendenze, persone che poi invece vogliono essere autonome, vogliono essere libere, c'è di tutto, non è che se uno fa un percorso spirituale è una persona illuminata, ecco cominciamo anche a dire questa cosa, perché come mi disse un maestro tempo fa, un percorso spirituale serve per abbattere l'ego, ma esiste un ego che è l'ego spirituale, che è quello che ti fa credere che tu hai ragione su tutto, che quindi siccome hai fatto questo percorso tu sei arrivato e gli altri non sono arrivati, ecco ovviamente lì è un ginepraio, quindi ecco anche il termine spiritualità è veramente molto ampio, però ecco questo che vorrei farti passare come messaggio è che le cose insieme ci possono stare, possono convivere e soprattutto guarda, io te lo dico veramente come uno dei consigli che posso dare a un fratello, una sorella, ci vuole flessibilità, ci vuole capacità di adattamento, ci vuole molta umiltà, se tu hai flessibilità, adattamento e umiltà, per umiltà non intendo uno che viene preso a calcio in culo e dice grazie, no continuo, umiltà vuol dire capacità di mettersi in discussione, cioè se io penso di avere ragione, ma a un certo punto capisco che magari non ho proprio ragione, piuttosto che continuare come un babbeo a insistere di avere ragione, mi metto un attimo in discussione, faccio un passo indietro, cerco di rivedere la mia posizione, questo intendo umiltà, flessibilità, adattamento e umiltà sono delle virtù incredibili, grazie a queste una persona può veramente realizzare delle cose molto importanti, allo stesso tempo ci mettiamo anche determinazione, perché è poi l'energia che ti fa andare avanti, ma determinazione sempre con flessibilità, adattamento e umiltà. Bene, io spero che questo video un po' estemporaneo ti sia piaciuto, un po' particolare, se ti è piaciuto metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!